Chairete amici reggini, credo che vi ricordiate le cinque storie regine che abbiamo avuto modo di leggere, di diffondere in formato pdf gratuitamente l'anno scorso. Queste storie sono diventate un libro, ve lo mostro perché non è praticamente acquistabile, è stato un libro che è stato distribuito nelle scuole regine, è stata un'occasione per poter parlare di storia e di archeologia. Adesso perché sono qui? Sono qui perché nella mia insana follia ho deciso di pubblicare un'altra storia, gratuita, scaricabile, anche questa volta Strill è lo strumento predestinato per diffondere questa sciocchezza che faccio, sperando che abbia il successo delle precedenti perché, sapete, le altre sono state scaricate da duemila persone ciascuna. È una cosa mai vista, il che significa che il regio è molto più colta e ama leggere molto di più di quello che si dice normalmente. Di cosa si tratta stavolta? Il nome è Phonos Hellenikos Megistos, la più grande strage di Greci. Leggete, si tratta di un avvenimento importantissimo, sto facendo molto macello su questa cosa, mi sto spendendo molto perché 3.000 dei nostri concittadini nel V secolo a.C. sotto la tirannia del tiranno ridente Smikutos, tiranno ridente che aveva posto la città in condizioni pietose, in un default totale, e rideva, ogni volta che arrivava in pubblico rideva, fino a quando non l'hanno dovuto cacciare, ma con gentilezza perché noi regini non cacciamo le persone che non meritano come dovremmo. E' una storia terribile, una storia che la politica regina di V secolo a.C. ovviamente, ha voluto fare dimenticare perché si tratta di una colossale operazione stupida che non serviva a niente, 3.000 persone ci hanno rimesso la vita, questi 3.000 poi la storia li ha obbliati perché Erodoto non diceva dove erano caduti, e perché Diodoro Siculo sbaglia la fonte, sbaglia nel citare la fonte, e fa in modo che tornino al reggio inseguiti dagli Iapigio e dai Messapi, e Iapigio e Messapi avrebbero conquistato il reggio, cosa che è assolutamente falsa e impossibile nel mondo antico. Leggetelo se volete, trovate il link qua sotto o qua di lato, a secondo di Giusva e Raffi, dopo lo mettono, può anche essere qua sopra, non lo so. Comunque, spero che vi piaccia, come al solito sarei contento se mi contattaste, la mia mail è sull'elenco telefonico, per chiarimenti, se qualche scuola vuole parlare di questa cosa, se qualcuno interessa un po' la nostra storia antica, sapete dove bussare. Eupratin, come mi piace dirvi.